Oh, perché quella faccia? Oh, perché la 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 faccia? Oh! Oh, perché la faccia? Oh, perché la faccia? Oh, ok. Andrante. Oh, ok. Mi devi a tempo Questo mi farà Ehi, attenzione, stanno tornando Oh, palla su qui Ecco il mio Revit Ehi, qualcuno rimette in moto quel carico Oh, palla su qui Prezione curativa Oh, 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 oh E ora vi ho celebrare Il carico ha raggiunto Sono sponciato Non forse sei più grandioso Che stupido a partire bene qui Venite qui ancora Consegna speciale in arrivo Questo mi farà sentire meglio Felicità a fallo Naturatevi Pronto, come via per te Sono ora Aumentiamo la velocità Tira via Ok, ricominciamo da qua Alza il volume Ok, ricominciamo da qua Oh, ma d' MRI Ah, nessuno scudgella ketchup Ah, guarda Wow, come via a musica Oh, come via a musica Il nostro dovere è spostare il carico, Barza! Cecchino, dobbiamo fare attenzione. Non preoccupatevi, amici! Sono in post-mastro! E andare passando la mia custodia. Asciamolo! Ecco il mio Rebrix! Rastornuolo al carico! Scuola in movimento! Ma un'occhia scolettare? Il carico ha raggiunto il secolo. Aha! Volume al massimo! Sono qua io, gente! Aha! Musico terapia! Non è un'occhia scolettare. Oh! Prevacità, fallo! Oh! 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 C'è il carico a destinazione sano e salvo! Oh! Vediamo di darci una volta. Sì, aumentiamo la velocità. Liberazione curativa! Il carico si muove. Oh, palla su qui! Il carico si muove. Tira via! Il mezzogiorno di fuori. Ciao! Ciao! Sono una partitina al volo. Il mezzogiorno di fuori. Ah, finisco questa qua, sono in arcade. Speriamo che mi stagia piaccia. Rappava! Sono andato a sistemare, ragazza, attento e ufficio. Già che ho un'università, mancao. Stai in città! Eriamo il movimento. E' un incarico. Sta a pertinengere la disposizione. E' un'altra partita. di merda sette uccisioni ho fatto e sei morti potrei fare tezzo veramente uno schifo sei pronto guarda quello non sono più capace a giocare una vita che non gioco che palle proprio lì ha continuato a mirarmi eh sono un po' più bravi questi qua dei bot di solito faccio 34% di precisione con Lucio sono sceso a 11 minchia ok 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 adesso ti carichi adesso ti carichi entro stanotte beh dimmi tra quanto ti neanche dimmi che hai quelli che va bene accesso a tempio di Anub questo periodo mi sto divertendo particolarmente con Lucio seleziona il tuo eroe sto pensando proviamo appunto perchè l'altra volta non ho fatto che mi provisano mi hanno aperto di spesso volevo prendere gli inizi quale vuole lasciarli passare e poi provare a prendere l'intimata beh no aspetta così ci entrano dritti ma ho provato prima prima l'avevo provato con Lucio la vostra incumida è la mia prima preoccupazione perchè Orisa la ti arriva in 4 metti lo scudo non riesci o no i tuoi compagni a partire da lui ammettete a fare danno tu un po' se ne fai fuori uno e i dati ti girano torno lo scudo in un attimo non ti metti proprio nell'angolino ma se un Rodol ti prende di mira attaccanti in arrivo tra 30 secondi mi viene freddo solo a guardare ma allora dovresti guardare da un'altra parte ma dove si va? esecuzione ultima e combattimento ottimizzazione strategica quello potrebbe servire ecco ma perchè tipo di qua dove si va? allora dovresti chiedere dovresti già saperlo in teoria dove si va piazza giù una bella trappola la davanti dove fanno la strada eh difendete l'obiettivo A con una maggiore sicurezza spostarsi dietro la barriera eh vabbè minchia ho fatto il giro dall'altra parte non erano anche ehm l'unico che la davanti era la taffna devo riunirmi alla squadra eh sono già tutti morti eh io ho provato venire il giro a contestare ma... l'obiettivo è sotto attacco rispettere il nemico immediatamente sti cazzi eh te l'ho detto che prima con noi ho provato a capire con noi si lasciano già qua eh nuova zona di resa obiettivo B almeno lo che fate è cambiare la spazio più non si riuscola via l'estmore sui vettori inizia impossibile per многие rimetto no no insomma sono sotto allora tornate indietro quindi se viene indietro di indietro la città quella roba ora tornate mi anna piro mi per piacere ma perchè non ci dà ancora più di lei dove è? mi prega di spostarsi dietro la barriera arriva una zaria da certa parte arriva una zaria da certa parte rascendo arriva mettersi al sicuro dietro la barriera grazie no no mi ha ucciso è arrivata una Mei alle spalle cazzo ma il nostro Rodok non è riuscito a uccidere la Mei fa veramente cagare archiviazione dati di combattimento vado in coraggio il locatore in posizione il più rischio di trovare il barriere dietro la mia barriera sono morto ma questo rifile vengono con la roba 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 è tremscreen cazzo bella l'os mochile vengono con la bambista che sta attraverso trascendente magari No, gelato! si prega di spostarsi dietro la barriera c'è che lì la trappola fa male e minaccia si è e viene usata anche come allarme si prega di spostarsi dietro la barriera arrivano la zai e bianccia ti consiglio di cessare punti resistenza parirano da sinistra uccisione doppia si prega di spostarsi dietro la barriera 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 percisi dietro la barriera mi preoccupare di spostarsi dietro la barriera mi è sicuro che è più difficile tar�iENDO è sicuramente si prega di spostarsi dietro la barriera di piccoli di usc este non era l'esito previsto non è l'esito previsto non è l'esito previsto non è l'esito previsto è durissimo trovare il baro dietro la mia barriera non è l'esito personale non autorizzato in prossimità dell'obiettivo ah non muove il problema qualche uno uccida quella zella dai se non riesco mai a uccidermi dai fa troppo male in una maggiore insicurezza scontarti dietro la barriera mancano i sessanta mancano i sessanta correttivo è l'ora di fare la tazza 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 ci ha lasciato andare a prendere la vita e l'avrei dovuto e l'avrei dovuto si prega di spostarsi dietro la barriera stanno andando ah no 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 bene uccadias quanti cazzo ne ho ammassati guarda il numero che c'è 38 io ho 52 azione miglia me l'ho fatto più danni io ok evidentemente si quelle bombette lì fanno sciù un danno della madonna eh 48 48 di fila non è male seguivo solo la mia programmazione 8.665 di danni 38 uccisioni io ho 7.100 però ne ho bloccati anche 13.000 però tu non sei molto più efficace con i dati accesso a tempio di anubi preparatevi ad apparcare seleziona il tuo eroe mi fai un tank così si così senza pensarti quando sei qua la prima è mischia completa è un po' dura entrare così se i god stanno alle spalle stanno alle spalle mi prenderò pure di voi mi prenderò pure di voi sopra ecco chi lo dà ecco chi lo dà aspetta lo scudo imparato ecco ok no eh sempre corpo a corpo lui praticamente e no sentendo il tasto non è ora di appendere l'armatura al chiodo Gli anni passano per tutti Mai combatterò Fino al mio ordine resta 5 4 3 2 1 L'attacco è il senato Tanto uscirà nella parte Ah, escono dritti Se vengono davanti magari fanno altro Ovviamente stanno indietro Vediamo di rimetterci in piedi Mi serve copertura C'è rimasto Un uccisione Ho conquistato C'è rimasto Ma io parlo a tenere su Un uccisione Un uccisione Mi sto prendendo cuore di te Avete detto scusa? No, non è a tempo Finchè ti hai schiacciato il tasto sta su Sì Si hai 2.000 di vita e basta Gli eroi Non muoiono mai Bravo non muoverci mi raccomando che è poi il problema di Reina aspetta che siamo arrivati ma io non sto facendo niente sto qui solo a cazzeggiare intanto che arrivate ecco non tirarmelo giù così cazzo sei girato io ero dietro lo so no cazzo sono morto non siamo una copia da salto nel momento in cui hai dato giù il tuo scudo siamo cascati tutti guarda che male dov'è che fa male? dov'è che fa male? dov'è che fa male? dov'è che fare un tic? dov'è tenere ancora un secondo? no cazzo 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 a buon punto con lo scudo andiamo dai che sono là i nostri andiamo andiamo che sono là i nostri senza scudo dove sei? eh son morto ma vengono avanti quei due cretini lì o no? dai vabbè è normale ma che lui passa fuori piccolo coglioni non è quello lui capisce non c'ho già più vita cazzo guinda oh oh dove ero? operativa al 100% non dov'è passare ora eh no cazzo 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 ah se devo fare sarà un scudo quindi vi va no 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 uccisione doppia ora ora devo dire azioni al minuto certo non mi hai toccato ma il credo non posso fare no va bene ma il dante lo facciamo Vita al massimo! Provate a passare ora! Quattro! Strucco! Sì! Ha il botto con tattiche tutte le volumi che sono. Sono un po' nobile adesso. Sono di nuovo in partita! Viva! Viva! Oh, scudo. Nea, mia, questo se ne ha dato la spada. Sì, non mi dice la spada. e la madonna è arrivato soldato con la sua cazzo di ultra non possiamo non prendere sta cacchio di cosa però no sono ancora lontano avanza 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 adesso metti uno scudo appena appena dentro poi scelgo eh ci ho provato eh io l'ho detto di te che tu mi dai la un coltima sconfuta azione migliore della partita buon caso si parte uccisione stritta hai fermato un sacco di danni però allora si ma impressionante ma comunque no qua alla fine non sono tanti sono 10 scudi definiti davvero eh so c'è mica neanche pochi eh si si beh quando ritiravo quello di ricevo lo tiravo il più all'ultimo e perchè era finito pintavo la carica perchè abbiamo finito lo scudo e non la doveva proteggerli trasferimento in nepal stasera o non c'era? non stava bene ha tentato di proporre di uscire la cena riparati da tanto seleziona il tuo e non eh no santuario cosa facciamo? non lo so non lo so non vuoi fare te uno rido io ti seguo con jankra no io pensavo di fare di fare l'uscio che li butto giù un bordo di gente mmm vediamo poi posso l'altro supporto beh anche se fai jankra non è male eh non è che tanto ho visto che fa un danno della madonna si è quello con il buco al centro che non piace a me si è quello con il buco al centro che non piace a me mi piace le sono i nostri boss le sono i nostri non so eh ne ho mai capito cioè un soldato ti muove molto ti muove ma credo che non sei molto molto dopo di me no oh palla su questo ecco il mio Revix non è certo non la vengo neanche diceva di mettere la bomba via via merda sta cazzo di me ha messo il muro, lui è l'unico posto dove non doveva porco diaz, dovevo scendere che cazzo mi metti il muro lì sta cazzo di me ha messo il muro ah così va meglio ma è giusto guardate che roba nooo sono caduto due fuori di lato oh vada su questo sta partendo lì indietro non ha preso questo stai bene ma cosa nooo porca diaz ce ne erano due erano un po' troppi per me che bastardo ma dove sono i nostri ho provato una rotobomba di nuovo in pista uh non riuscite a sentirlo i nostri ci sono finalmente ho provato una rotobomba nel pasto di nuovo a posto oh la madonna ma cos'è che mi colpisce così velocemente cosa è questo è l'altare Voi fate attenzione E io vi porto a casa Sani e salvi Non è mica tanto 5 4 3 1 2 Andiamo Vibrazione curativa La famiglia pire Sono rimasto solo io Non è giusto Sta indietro Vabbè Nessuno fermerà A palla Oh sì Vediamo di darci una via Oddio Vaколi Adesso Ha abbito cioè Ti ti tolto Però Nemico su radar Come avrei capito Non so se riesci a rientrare Manca adesso un 90% l'oro di conquista quindi non penso di avere ancora molto Non riesco ad arrivare su adesso Non è andata dai Sono uno contro sei non so cosa fare Miracoli Eh la madonna adesso Sconfitto E' un mollo lì Vanno da dire i miei problemi che ho No Gli stiti che stanno andando tutti a stress Sì Ho provato prima Perchè è sempre più acceso Perchè è sempre più acceso Vediamo cosa mi becco sto forziere Vediamo cosa mi becco sto forziere Una posa vittoriosa di No 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 Vediamo 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 Vediamo